Ho già vissuto un tempo indietro in cui io e te camminavamo assieme per le strade e non c'è niente che ricordi che rappresenti uno scontento mi diamo ancora e non mi pento non un sogno siamo insieme dormi mi sono avvicinato dentro i sogni è solo un tentativo questo però lo spero tanto in fondo vorrei ascoltarmi anche un momento ma adesso fidati di me non finirà mai come credi possa andare pensa bene a cosa fare è un mondo difficile le cose che hai vissuto prendile non ha spunto perché quello che potrai vedere non rappresenta quel che sai quel che conosci è materiale ma il cinema non è reale nella realtà le fiabe destano attenzioni di chi crede restano realmente parte della storia in ogni vita di chi creda che sia ogni favola un po' vera ma adesso fidati di me non finirà mai come credi possa andare pensa bene a cosa fare è un mondo difficile è un mondo difficile è un mondo difficile è un mondo difficile